col venticello il sole ciao amici eccoci ancora nel nostro tour alla scoperta delle panchine giganti oggi siamo in questo bellissimo paese che dovreste no andiamo avanti un passo avanti eccoci qua siamo in questo bellissimo posto intanto sto passando la macchina come al solito perché qua è una strada provinciale siamo a esattamente e siamo qua alla panchina gigante di questo posto una chiesa di fianco una chiesa ci siamo fermati per farvi vedere anche il campanile che veramente veramente bello guardate che spettacolo amici guardate che roba bellissimo sto campanile qua facciamo un giro un attimo che si vede meglio sembra un campanile gotico si sembra proprio campanile di una volata sembra un campanile di una chiesa gotica però non è una chiesa gotica almeno però la somiglia però la somiglianza c'è piaciuta la chiesa bella però andiamo su dai andiamo alla panchina numero 108 colore blu sai che io studio sempre hai studiato proprio siamo arrivati al parcheggio già parcheggiato e adesso andiamo alla panchina gigante ma guardate qua che bello alle nostre spalle amici arriva questa villa con solo che andiamo contro luce e viene bruciata l'immagine ma guardate qua che bello guardate che spettacolo di posto bene ma dove sei dove sei dove sei dove sei la gimbal la gimbal ma abbiamo solo le spalle verrà un po bruciata ma chi se ne frega ma andiamo ecco siamo arrivati a metà strada sentire in salita abbiamo fatto fatica perché siamo fuori allenamento ma comunque si fa tranquillamente anche se abbiamo un po di fiatone adesso c'è il pezzo piano per arrivare ma guardate già da qualche panorama amici guardate che bello che spettacolo di posto veramente bello e straconsigliato guardate che bello questo bivio c'è una curva gomito poi c'è la strada dove stiamo arrivando noi qua c'è il cartello anche piccolino big bench che indica per arrivare la alla panchina si comincia intravedere la giù in fondo piccolissima la panchina gigante guardate che spettacolo però è piccolissima gigante guardate qua la villa che spettacolo che fortuna soprattutto abitare in questa villa vicino alla panchina guardate che panorama che bello guardate che spettacolo signori che spettacolo ma proseguiamo per la strada per fortuna la salita è finita adesso c'è un qualche su e giù ma roba da poco poi sono i tralicci della telecom andarci a picchiare contro col drone sono proprio stupendi ma sono sti capace sulla usita si si uso io guardate che spettacolo amici usita dai usiamo un po per uno dai ed eccoci arrivati alla panchina gigante numero 108 di prignano sulla secchia blu 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 esatto guardate che spettacolo che spettacolo c'è anche gli scalini per salire guardate che spettacolo la panchina gigante com'è comoda comoda la voglio anche a casa eh dai ce ne facciamo fare una su misura poi la mettiamo in giardino ed eccoci amici sempre qui dalla panchina gigante abbiamo anche l'amico ercole ciao che fa parte della nuova pro loco di prignano sulla secchia provincia di modena provincia di modena ed è la prima panchina della provincia di modena giusto per ora la prima e ancora l'unica panchina della provincia di modena che voci rumor dicono che ce ne siano altre in prossima installazione bene bene saremo siamo in attesa di nuove informazioni allora terremo monitorato il sito per le nuove cose esattamente e questa panchina quando ce l'avete fatta installare voi giusto abbiamo installato a noi come nuovo pro loco per fare le nostre disponibilità e l'abbiamo installata nell'agosto del 2020 ed è la numero 108 del progetto big band community project di clausiana a cui noi abbiamo aderito con la in tutto avete scelto una bellissima location dove mettere questa panchina veramente è vero questo è il monte pedrazzo ai più anche qui in paese era poco conosciuto e siamo riusciti appunto tramite le fine tramite appunto le nostre periodiche gite da queste parti e trovare questa collocazione ideale proprio quando abbiamo pensato di installare la panchina e grazie appunto ai proprietari che ci hanno dato la possibilità di installarla ecco i proprietari dei terreni ed è veramente bello viene tanta gente qua da lontano tantissima viene tantissima gente fu oltre ogni aspettativa specialmente è venuta anche d'inverno e adesso con la bella stagione e con la possibilità di girare a perché è vero avete fatto solo avendo l'installata ad agosto abbiamo il fine dell'estate e poi dopo allora quest'anno dovrebbe essersi tanta affluenza perché sempre più persone seguono le big bench le vogliono venire a vedere perché offrono panorami spettacolari comunque prima di farvi vedere il panorama qua ci sono più strade per raggiungerla giusto diciamo più sentieri per raggiungerla diciamo che l'ufficiale è un sentiero di cinque chilometri che parte dal centro del paese precisamente dalla sede della nostra proloco il paese di prignano sulla secchia ricordiamo la secchia si la nostra sede di fianco al municipio al numero 166 di via legretti e da lì parte il sentiero denominato anello di prignano sono cinque chilometri e intorno al paese cui dove nel punto a metà del percorso praticamente si raggiunge la big bench e poi si riscende in paese attraverso sempre sentieri è un sentiero bellissimo secondo noi e soprattutto secondo la gente che lo viene a frequentare viene a frequentare questi posti perché tutto ben esposto all'ombra e quindi si fa facilmente è ideale per le famiglie ecco che bello bene bene sono queste cose sono sempre belle belle iniziative queste qua che meritano tanta pubblicità e meritano tante cose noi consigliamo quello poi ci sono delle possibilità di raggiungere certo con la macchina ma i posti da parcheggiare sono veramente pochi quindi consigliamo di fare la se uno vuole vuole fare la strada asfaltata però è più corta però consigliamo sempre di lasciare la macchina in paese la strada asfaltata sarebbe quella che abbiamo fatto noi a venire sub quella prima quella più corta abbiamo parcheggiato abbiamo fatto quei 6 700 metri per arrivare qua esattamente ma non lo consigliamo perché i posti da parcheggiare sono veramente limitati una proprietà privata concessa proprio noi per l'occasione dovevamo venire su oggi certo amici mi raccomando seguite anche la pagina facebook che si chiama nuova pro loco prignano e c'è anche la pagina instagram lascieremo tutto sotto in descrizione c'è anche il loro canale youtube iscrivetevi per sostenerlo perché meritano sostegno iscrivetevi a tutto seguiteli perché meritano veramente tanto perché queste qua iniziative queste scusate queste iniziative sono veramente veramente belle dove c'è il diario dei visitatori quindi voglio lasciare un commento adesso sarà anche un po' meglio non farlo venere comunque qua dentro è un po' frusto è normale stare lei a tutte le intemperie abbiamo già quello nuovo però uno può lasciare un suo ricordo della visita la nostra big match qui c'è la piantina con le 5 e i chilometri con le 5 panchine delle che sono circa nell'arco di 30 40 chilometri ci sono tutte per esempio qui prignano è 23 chilometri di strada da castellarano 24 da baeso 40 chilometri da fosola e 57 da ligonchio e così gli altri hanno tutta la loro che ligonchio e baeso saranno nelle nostre tappe di tutte 130 adesso saranno le panchine quante saranno probabilmente di più poi sono in continua crescita per cui tutte le panchine e per i timbri invece oltre oltre al bar li fate anche voi e poi c'è anche nella pizzeria laggiù oltre alle p bar che in centro in paese a prignano presso la nostra sede della proloco la domenica mattina è sempre aperta esatto pure in pizzeria la pizzeria alla volta per chi viene praticamente dalla pianura deve passare di lì e vuol mangiare una buona pezza anche l'indirizzo nel link della vostra sede giusto mettiamo lì che c'è tutto per cui avete l'imbarazzo della scelta dove andare a fare i timbri e quindi E questo è il video. I sassi qua? I sassi qua li utilizzeremo, speriamo breve, per fare una piccola passerella attorno alla Big Bench. Che spettacolo, tanta roba. Veramente, veramente bello, dai. Sfruttiamo quello che la natura ci ha dato. Amici, siamo arrivati anche alla fine di questa giornata qua, alla panchina numero 108 blu di Prignano, con l'amico Ercole. E adesso andiamo in sede della Proloco, dove beremo un caffettino e ci farà il timbro. Esatto. Ok, allora andiamo. Andiamo. Eccoci arrivati davanti alla sede della Proloco di Prignano, dove andremo a timbrare i passaporti. Eccoci dentro, nella sede della Proloco. A me è il passaporto. Timbriamo i passaporti. Passaporti timbrati. Ed eccoci amici, con le magliette della Proloco, del colore della panchina. Davanti alla loro sede, dove abbiamo fatto il timbro. Ci salutiamo. Se vi è piaciuto il video, ovviamente iscrivetevi al canale. Attivate la campanellina, così non perderete più nessun altro dei nostri video. Seguiteci anche su Instagram e su Facebook. Volevo guardare tutto quello che facciamo. Siamo qui. Esatto. Lasciate tanti like. Tanti. Ma ne vogliamo tanti, perché sto posto qua merita veramente tanto. Amici, alla prossima. Ciao. Ciao.